Perché mi arresta? Perché mi arresta? No, non sto zitto! Perché c'è il mio amico a terra... No! C'è il mio amico a terra e voi lo state facendo morire! Tu avevi... Mi metta in galera per in insulto, perché voi state facendo morire un mio amico! Sì, 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 come no, come no... Giri la ruota, giri la ruota, giri la ruota... Perché non è che se c'è un distintivo si può sentire sto cazzo! Facci alzare il mio amico e chiami un'ambulanza, per cristo! Tacci! Tacci tua! Te l'ha arrestato! Mi tacci di chi? Guarda che polizia te merda! Il mio amico per terra che sanguina e loro mi arrestano, capito? Aspettalo! Ah, per me mi mette in sicurezza davanti praticamente al negozio che è stato derubato... Ma io non lo sento! Col mio amico morto a terra, io non posso muovere, se sparano, mi uccidono! Io non lo sento! Un ginegno! Ma non lo sento, Manuel! Come non lo sento? No, io non lo sento parlare! No, ti senti per forza! No, non lo sento! Chiamate un'ambulanza per il mio amico! Io non lo sento comunque parlare, non sentivo manco te! Vedo che sei ma la bocca, ma non parla! Non lo sento parlare! Comunque stop! Devi mettere bene le impostazioni audio! Stop e morire! Un minuto e trenta da sei morto! E come faccio? Il mio amico un minuto e trenta da sei morto! Ma non mi fa fa' le impostazioni da morto! A me non mi fa fa' perché sono arrestato! Sono manettato! Ma forse da morto non potevo parlare! Cioè, pensa a sti coglioni! Io ho rapina data! Ho rapina del negozio! Ma come si metta la Shasta? Ma me sta arrestato pure a me! Cotti! Cotti! Ma perché mi arresta? Ma che ne so! Ma perché non posso fare impostazioni? Ma scusi! Lui stava morendo e lo arresta? Ma sul serio? C'è qualcosa che non va! Non riesco a capire! Eh, ma... Non riesco a capire perché non c'ho la impostazione! Ma mi sembra che il vostro lavoro non lo sappiate! Dai! Ma... Posso discutere quanto voglio sul suo lavoro! Perché non lo sta facendo nel modo corretto! Ah, vabbè! Non c'è problema! Tanto un lavoro peggio di questo non può farlo! Quindi se mi mette pure in galera da innocente... Non è un problema! È un problema suo poi che avrà sulla coscienza! Non c'è problema! Perché io non lo sento? Perché secondo me ti imposta bene l'audio! Eh, ma non posso fare! Non posso impostare! Non mi dà... Eh, sta messo in galera! Ma perché sono morto? Perché lo metto in galera? Siamo i principali indiziati! Cioè, ma io sono morto e vado in galera! Aian ha fatto niente! Ha fatto solo scoreggio e basta! Ma io poi perché non li sento? Aian ha innocente! Guarda, mi metto anche la cintura! Guarda un po'! Ma controlli... Se lei controlla il mio conto in banca... Lo vede che non sono stato io a fare la rapina? Ma come faccio a mettere la rapina? Io sono venuto dall'altra parte della città perché il mio amico diceva... Guarda, mi hanno sparato! Ero qua davanti! Ho visto un player! Sono sceso! E mi hanno sparato! E io sono tornato indietro per cercare di... Di risuscitarlo! Solo che non posso farlo! Perché non c'è un cazzo di medico in questa città di merda! Con la polizia che non fa il suo lavoro! I medici che non ci sono! O la colpa è mia! Complimenti per il lavoro! Ma dove portano adesso? Non lo so, non mi stanno a portare! Ma dove portate? Dai che c'ho pure fame! Ma perché mi sta portando in centrale? Non capisco! No, perché sta perdendo tempo lei e io soprattutto che devo andare a lavorare! Devo andare a lavorare! Ma forse un consiglio glielo potrei anche dare! Andare a lavorare! Ma vanno arrestato così! Ma non è vero! E se non lo faccio? Vai, mi accompagni lei, non mi va di camminare! Grazie! Ma se adesso io mi disconnetto, Emanuele? E poi rientro? Non lo so! Vabbè, fallo! E cazzo te frega! Se mi disconnetto rimango dentro la macchina della polizia! Sono innocente! Io non ho fatto niente! La cosa bella è che... Io volevo solo aiutare il mio amico! Che sentiamo! Io non lo sento parlare! Io cercavo solo un medico! Ma perché mi prende a calci? Perché mi prende a calci? Oh, adesso posso fare impostazioni! Allora... Allora, scusi! Lei è veramente un maschio, lo sa! Allora... Può insegnarmi ad essere maschio come lei, per cortesia! Ah, oddio... Ma è quando iniziano le lezioni? Quando iniziano le lezioni per diventare più maschio? Certo! No, no... Io voglio diventare maschio come lei! Sono troppo... Cioè, sono troppo voglia! Cosa abbiamo? Che abbiamo? Che abbiamo? Oh, forse ce l'abbiamo passi! Che sono tutti scarichi mai usati, quindi... Mi senti? Non c'è sangue sul macede, quindi... Oh, adesso ti sento! Ho fatto il macellaio, quindi... Ho fatto il macellaio, quindi è ovvio che il macede lo porto a presso! Eh, le faccio un piccolo pressuntino di quello che è successo... Eh, io faccio... Ho capito, ma... Sì, sì, non sono... Era il mio lavoro fino a un giorno fa... Ma hanno sparato! Ok! Ah, e hanno sparato! Sì, sì! Se vuole fare una deposizione può passare... Eh, non lo sapevo, mi dispiace! E come devo fare? Eh, mi dispiace, non lo sapevo! Io facendo il lavoro da macellaio, ovviamente, lavorando 24 ore su 24, sette giorni su sette... Se vuole! No, io ho visto solo che quando stavo lì, mi sono fermato, questo poi è uscito... Ovviamente è tutta carne di prima scena! Ho sparato, ho preso la macchina e se n'è andato! E poi ho fatto il richiamo dell'infermiere con G... E basta! Sì, sì, sì! E poi è arrivata la polizia e è arrivato pure amico mio! Va bene, capisco! Vabbè, mi sbatta in galera, tanto comunque un lavoro peggiore di questo non può farlo, perché... Comunque ha messo le monete a un innocente, poi può chiedere al suo collega che sta parlando col mio amico... No, 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 qui siamo alla... Perché c'era il mio amico lì, morto, io venivo dall'altra parte del... Pochi minuti fa, penso che si dà una controllatina... Ok, quindi io a viola devo andare lì... No, più che altro lei mi ammanetta e mi vuole mettere in galera... Sì, perché lei mi vuole mettere in galera, perché è una cosa che non l'ho fatto... Ok, allora... Vabbè, ascoltami... Sì! O.C. Out of Charakter... Ehm... Hai mai giocato a RG? No, perché se secondo lei... Quello che sta facendo lei è rispetto... No, no, proprio mai giocato a RG? Perché io stavo cercando di aiutare un amico... Che morente... Non è più volta e quindi... Eh no, ma non funziona così, mi dispiace... Dovrebbe avere almeno le prove per ammanettarmi... Sento che c'è un po' di confusione tra... Dicemi tasti, nazioni, ho detto... Sì... Forse è nuova... No, ma meno male che c'è lei in questa città... Dove gli altri fanno i casini e lei arresta gli innocenti... No, ma... Eh no, vabbè, non so, stavamo per staccare... Perché sono, insomma, due e mezza quasi... Eh beh, certo... Vabbè, dicevo, se è... Dai, su, che devi fare, mi devi mettere in galera, dai, tanto... Innocente più, innocente più, in gabbia, non fa niente... Va bene... Spieghiamo un attimino cosa è il roleplay, come si gioca... Insomma, sono state persone ragionevoli... Va, mi porti in galera, dà... Ok... E poi, vado a sentire la versione del mio amico, al suo collega... Ando il link e te lo voglio in chat, purtroppo te lo devi iscrivere... Sì, sì, vai, vai, quello lo so fare... Ma intanto la chat si apre con un invio? No... Con T... Ah, con T... Ah, quindi? Poi ci sta un sitarello su Discord che... Però, però scusa, perché mi dice, per favore, utilizza la chat OOC... Eh, per quello che devi usare un comando che si chiama slash... OOC... Beh, ha sbagliato un po' i modi, sa... Sì, sa com'è... No, lei ha sbagliato totalmente i modi, perché... Che comunque... La prima cosa che ha fatto è mi ha messo... No, lei mi ha messo le manette e mi ha subito detto... Adesso ti sbatto in galera... No, invece doveva farmi le domande lì... Cioè, dobbiamo spiegare le regole, sono tante... Io adesso, se so qualcosa, non ti dico niente... No, non riesco a scrivere, che ho fatto lì, ho scritto... Comunque, se mi vedi quanto ho tatuato, eccetera... È perché ci siamo settati i poliziotti, giusto perché... Tanto la polizia è qua inutile... Tanto c'era arrivato... Niente, io sono criminali... Vabbè, meglio dei poliziotti inutili, guarda... Sono poliziotti perché sono admin e quindi... Ah, ok... Non c'era nessuno, visto che... Allora, aspetta la prova... Comunque... Ve lo passo subito, eh... Ok, grazie... Quello che tu dovevi prendere proprio scritto, a mano... No, sa com'è, c'era uno... C'era una persona morta a terra... Voi stavate guardando dentro... A un negozio dove non c'era nessuno perché quello è scappato... Sì, sì, gra... No, no... Grazie a un par di coglioni... Impari a fare il suo lavoro, per cortesia... Ho scritto... Ho scritto... A post... Forse ho capito... Ma che m'hanno torto tutto... Boh... Torto... Ecco, questo è il nostro Discord... Se vi va di passare anche due minutini, tanto per chiarire la situazione che c'è... Ok, aspettami... Aspetta che me lo segui, eh... Aspetta che me lo segui, eh... A posto, ho fatto screenshot... Fate uscire il mio amico... Sono uscito, sono uscito... Mi hanno portato all'ospedale, Manuè... Ok... Non mi hanno arrestato... Che poliziotti... Nemmeno il proprio lavoro, Danuè... A posto... Ma il problema è un altro, Manuè... Guardi, da quello che so... Quell'altra gente è stato molto più gentile... Ma il problema è... Ah, non mi hanno tolto niente... Vedi, non ho perso nell'acqua... Ah, a me mi hanno tolto il macete, è bastardo... Allora, usa... E la pistola? A posto... Cioè, il poliziotto mi stava a mettere sotto... Telefono... Ecco perché non ti sentivo... Perché c'avevo il microfono muto... Eh... No, dai... Hanno detto se vogliamo... Se vogliamo? Se vogliamo ha detto che siamo andati su PS Loro... Ho fatto lo screen da... Da Steam... Ma tu dove li sentivi? Non stavo appagliato... Ho registrato, Manuè... Hai registrato? Vabbè, mi serve una macchina però... Eh... Lei... Lei non ha rispetto... Dove... Dove stai? Stavo all'ospedale... Eh... Non sottostato... Aspetta... Stavo in un po' breve... Ci sto... Do sta valigia... La valigietta bianca? Ok... Dobbio... Ma che t'ha detto? No... Ha detto che è successo... Hai detto che è successo così... Stavo lì... Ho visto un player... So scello... Mi hanno sparato... Vabbè... Morale da Paola... Quanto hai guadagnato? Eh... Non lo so... Non te lo saprei dire... Però hai depositato... Ma... Non ci ho fatto caso... Perché... Ero preoccupato più che altro... A scappare... E poi a ritornare lì... Vabbè...